... Mercoledì 31 agosto, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Occhio ai giornali che come sempre va in onda al mattino alle 7, in diretta, puntuali come sempre, da domedì al sabato. Ben ritrovati cari telespettatori, cominciamo come sempre con il cartello del Santo del Giorno per dare un'occhiata all'almanacco. San Raimondo non nato, questo è uno dei tanti santi che la Chiesa ricorda in questa giornata. Il sole è sorto alle 6.29 e tramonterà alle 19.47. Adesso io vorrei farvi vedere un attimo la webcam, eccola qua, vediamola un po', se riusciamo subito ad andare sulla telecamera. Ecco, Skyline, vedete, questa è la piazza 20 settembre di Fano che oggi, essendo mercoledì, si sta preparando al mercato infrasettimanale. Ecco, come vedete, questa immagine suggestiva, particolare, perché ancora non è stato montato del tutto. Stanno arrivando i commercianti e stanno aprendo le loro bancarelle. Quindi c'è questo spettacolo visto dall'alto con una prospettiva chiaramente inusuale, però ogni tanto ve la mostriamo. E queste sono immagini che arrivano praticamente in diretta. Adesso invece andiamo a vedere il tempo per la giornata di oggi. Il tempo sarà questo, quello che vedete nella grafica della protezione civile delle Marche. Avremo rovesci o temporali sparsi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, più probabili nel settore collinare ed alto collinare della regione. Dalla serata, previsti rovesci sparsi sul settore settentrionale, quindi nella provincia di Pesorubino, i fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità. Quindi attenzione dalla tarda mattinata, poi primo pomeriggio e in serata poi anche sul Pesarese, con il tempo, il maltempo che si farà sentire, così come si farà vedere e sentire nella giornata di domani, primo settembre, quando la pioggia, le precipitazioni temporalesche, quindi sì a carattere di rovescio, si esauriranno nel corso del pomeriggio. Però la mattina avremo ancora temporali, temperature che naturalmente diminuiranno per effetto anche della pioggia e quant'altro. Venerdì 2 invece il cielo si rasserenerà. Avremo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in lieve diminuzione quelle della notte, in aumento invece quelle massime, quelle del giorno. Però non dovrebbe piovere, ecco, un po' su tutta la regione. Questo venerdì 2. Poi tempo a tratti instabile anche nelle giornate di sabato e domenica prossima. Ok, adesso andiamo a leggere i giornali. Diamo uno sguardo alle pagine che ho selezionato per voi questa mattina nella rassegna stampa. In primo piano le bollette, le bollette di cui si parla ormai da tempo. Si parla tanto ma si fa poco in realtà. Qui l'unico che potrebbe fare qualcosa è l'attuale governo uscente, Draghi, che continua a far finta di niente. In realtà ormai è accerchiato da tutte le forze politiche, anche perché è difficile fare campagna elettorale e cercare di convincere ad avere voti quando poi il problema degli italiani è tutt'altro. Sta nelle tasche, sta nei portafogli. E quindi stanno accerchiando Draghi per cercare di convincere o a tirare fuori qualche soldo per far fronte a questa che è davvero una tragedia, un problema serio. Allora, intanto il resto del Carlino ci informa, questa mattina alla pagina di Pesero, che c'è gente in fila per pagare queste bollette come a rate, un po' alla volta. Decine di persone negli uffici di Marche Multiservizi. C'è una pensionata che dice, sottolinea, qui mancano i soldi per mangiare. Se dobbiamo pagare le bollette non abbiamo soldi. La coperta, come si dice, è corta. A centropagina però c'è chi evidentemente... Vabbè, matrimonio olimpico. Gimbo ha scelto Pesero per il sì. Ci saranno anche Giacobbs, Bebevio, Malagò, Tortu e Barontini. Nella nuova casa c'è anche il campo di basket. Domani a Villa Impariale, Tamberi sposa la sua Chiara. Sfilata di campioni tra gli ospiti. In primo piano, come vedete, nella pagina principale, allora abbiamo da Urbino un pass per disabili scaduto, 30 multe all'invalido, la moglie parla di un accanimento. Poi l'intervista sul Carlino di Pesero alla Morani, che fa autocritica. Morani del PD, ho sbagliato, ma ora battiamo la destra. E poi Salvini, riecco Salvini a Fano, questa volta fa tappa tra le bancarelle. Tra l'altro abbiamo visto poco fa le bancarelle che si stanno montando in questo momento per il mercato. Baia Flaminia, infarto mentre gioca a tennis. La festa dei piccoli, poi Malandrino, che è all'opposizione nel comune di Pesero, che vuol sapere quanto o meglio, più che quanto perché si sa, ma vuol sapere chi ha pagato il viaggio spot di Matteo Ricci e company negli Stati Uniti per Pavarotti e la Walk of Fame. Insomma, chi ha pagato questi 25 mila euro? E poi vedremo un po' meglio nel dettaglio l'articolo. Poi anche qua, sempre dalla prima pagina, del resto del Carlino, Manuela, malore fatale, morta alla pizzeria del Buco. Aveva 45 anni e qui siamo sempre a Urbino. E poi una nuova impresa, e bel fortissimi sulla via degli Dei. Andiamo adesso a leggere i titoli invece del Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesero Urbino. Il comune smorza i lampioni, e questo per effetto ovviamente, come sempre, del caro Bollette, quindi contro il caro Bollette, nemmeno le lampadine a LED, quelle che sono state installate in tantissime città proprio per risparmiare, ma non bastano più. Pozzi dice che nessuna zona rimarrà al buio, ma abbasseremo le luci. Per il riscaldamento invece si pensa di diminuire le ore di accensione negli uffici. sulla scuola invece verifica sui consumi di 70 edifici. Centropagina, ecco le star alle mie nozze da favola, voglio coronare il sogno di Chiara da bambina, lei e il mio angelo, un figlio. Beh, è presto, dicono la coppia Tamberi e appunto Chiara. L'intervista invece a Conte, Giuseppe Conte, ma quale modello Marche c'è da recuperare? Missionario 65enne, le notizie in breve. Missionario 65enne muore nel Benin, ucciso da un valore, variante di Gimarra, l'amaro risultato di troppa arroganza e poi da Pesero, project manager per riqualificare il San Benedetto. Allora, sempre dalla prima del Corriere, vedete il viaggio in America costato 25 mila euro, trasferta negli Stati Uniti, negli USA dell'amministrazione comunale di Pesero, Fratelli d'Italia chiede racconto in consiglio delle spese. Allora, a pagina 3 invece del resto del Calino, eccola qua, una delle tante pensionate, tanti pensionati peseresi, che mostra questa bolletta di ERA, una pensionata, Marisa Marchini, che mostra la sua bolletta, a cui è riuscita a far fronte con sacrificio. Ma cosa ci aspetta per l'inverno? Vedete, la bolletta è del gas, la leggo insieme a voi, forse voi non riuscite a vederla, ma da quello che leggo abbiamo una bolletta, un totale da pagare, di 267 euro, 267, così suddivisi gas 97 euro e la corrente, la luce 152 euro. Adesso fate un po' voi il confronto con quelle che ricevete in base ai vostri consumi, ma tutti quanti abbiamo notato l'aumento sproporzionato. Allora, bollette stellari, questo è il titolo, pensionati in fila per le rate, così non ci bastano i soldi per mangiare, utenze fuori controllo, file nell'ufficio di ERA, non riusciamo a pagare tutto, i costi sono raddoppiati, dobbiamo spalmare le cifre. Marisa Marchini, come abbiamo detto, se va avanti di questo passo, chi ha poco rendito dovrà saltare un pasto al giorno, gli aumenti sono assurdi. Capite che è davvero leggere nel 2022 nell'italianissima, nell'occidentalissima italiana, Italia, leggere queste notizie fa veramente male al cuore, soprattutto se pensiamo agli anziani che già hanno dato ai tempi della guerra, eppure ritorniamo qua. A proposito di guerra, ma lasciamo perdere, perché altrimenti ci facciamo diventare il sangue amaro, stiamo facendo, e ci siamo impantanati, sempre grazie all'amico Draghi e Company, ricordatevi che il 25 si vota, ricordatevi che ci ha portato a questo disastro, non fate finta di niente, o solo perché l'amico politico vi ha fatto un piacere, fregatevene, ci stanno portando nel disastro più assoluto, e allora ricordatevi il 25 di settembre. Ora l'autunno fa paura, titola invece il Corriere Adriatico, bollette shock, famiglie costrette a pagare a rate, rincare vicine al 100% per la corrente elettrica e il riscaldamento. Le associazioni dei consumatori ricevono centinaia di richieste su come saldare gli importi in più soluzioni o cambiare gestore. Bisogna verificare sempre la correttezza dei consumi addebitati. Io poi ve l'ho saltata, ve l'ho risparmiata, per esempio la pagina nella quale c'è un'intervista a Renzi che dice che non vede l'ora, non ci dorme la notte per riportare appunto Draghi al governo. Io non so, mi sembra veramente di vivere in un altro mondo e in un incubo. Per il metano invece 800 euro riscalderemo anzi in metà casa la scelta di una coppia pesarese con tre figli e l'asciugatrice diventa ovviamente un lusso. Quindi rincari sui prezzi dell'energia pesano sull'economia delle famiglie. A Pesaro Sara Lazzari, mamma di tre figli e suo marito Matteo Giuliani si sono visti ricapitare prima dell'estate una bolletta di gas di 800 euro. Voi direte ma perché Ferri ce l'ha tanto con Draghi? Io ce l'ho tanto con Draghi perché Draghi ci ha portato l'Italia in guerra quando non c'era bisogno perché l'Italia poteva avere un ruolo diverso. Abbiamo anche ci sono tanti motivi per cui avrebbe potuto avere un ruolo diverso e quindi evitare tutto questo pandemonio ma lui ha voluto così e questi sono i risultati ecco perché Ferri ce l'ha con Draghi. Il viaggio americano ma non solo con lui con tutti quelli poi che hanno votato insieme andando contro la Costituzione abbiamo inviato soldi e soldi tutti i soldi che abbiamo inviato per armare l'Ucraina avrebbero potuto usarli non è populismo non è populismo ma altro non so che dirvi il viaggio americano è costato 25 mila euro vedete a Pesaro c'è gente che fa fila per le bollette questo è populismo sì ve lo dico faccio il populista il viaggio americano è costato 25 mila euro però c'è chi va a fare il tour negli Stati Uniti per Pavarotti e Franz diremmo noi diteci chi ha pagato la trasferta del comune ma l'Andrino i fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione sulle spese cost to cost della delegazione e dice appunto dice appunto Daniele Manandrino mentre nella ricca Pesaro aspetta che la sottolineiamo così mentre nella ricca Pesaro il sindaco ha pensato bene di organizzare il viaggio di una delegazione di quattro persone lui compreso che non si sono accontentati di partecipare al solo evento di Los Angeles ma sono andati pure a New York a vedere la Green Line a prescindere da chi sosterrà i costi della trasferta e questo lo accerteremo tramite una interrogazione il viaggio di Ricci e Company ci pare un vero schiaffo alla miseria in un periodo di grossa crisi come questo mentre ci è sembrato molto più consono il comportamento del sindaco e del comune di Modena perché Modena è andata allo stesso modo negli Stati Uniti però in modo più sobrio ok senza in modo più sobrio ecco poi Ricci e Soci negli USA questo invece è il resto del carino pagina 7 uno schiaffo alla miseria questo è il titolo Malandrino Fratelli d'Italia chiederemo un'interrogazione chi ha pagato il viaggio meglio il basso profilo tenuto da Modena allora adesso qui cari telespettatori sono le 7 un quarto siamo in diretta allora io qui vorrei aprire adesso vi apro una sfilza di pagine tutte locali che riguardano i malori ora io non dico niente non voglio dire niente perché sono convinto che dall'altra parte ci siano persone voi molto più intelligenti di me quindi io vi dico soltanto e vi lancio una provocazione e vi lancio vi faccio una domanda vi siete mai posti questa domanda io penso di sì come mai tanti malori in questi ultimi tempi come mai vi siete dati una risposta non vale i malori ci sono sempre stati come risposta non vale perché sono aumentati tantissimo allora la domanda è perché così tanti malori in questi ultimi tempi allora cominciamo la carrellata dei malori intanto dal primo che è preso qui dalla pagina di Pesaro e questo pesarese di 69 anni può raccontarla almeno insomma da quello che si evince da questo da questo articolo questo uomo di 69 anni un pesarese di 69 anni si accascia a terra nei campi di Baia Flaminia poi alla fine insomma si è salvato un ex banchiere intorno alle 18.30 di ieri un pomeriggio assolato il centro sportivo di Baia e non vale neanche come risposta il caldo perché qui già il tempo assolato il caldo neanche il caldo secondo me vale come risposta perché c'erano anche quando stava freddo che faceva freddo allora solo 18.30 dicevo il centro sportivo di Baia Flaminia è affollato di appassionati che si dividono a seconda dello sport preferito insomma per farla breve questo ex bancario pesarese classe 51 sta giocando a tennis improvvisamente si sente male si accascia a terra colpito probabilmente da un infarto ecco che intervengono dunque i sanitari segnatevelo 1 2 pagina di Urbino addio a Manuela l'angelo dei più deboli aveva 45 anni era la storica dipendente della pizzeria in centro con la sua associazione e gli amici della piazza si occupava degli anziani leggiamo dal Carlino è morta in casa forse tradita dal cuore avrebbe accusato un malore poco dopo essersi alzata e 2 sempre oggi ai giornali di oggi 3 andiamo a Senigallia che mare faccio un'immersione commerciante muore in Salento Giorgio Taccheri 74 anni era in vacanza con la moglie e una coppia di amici il figlio non era inesperto andiamo a leggere nel pezzo probabilmente è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua 4 Fra Giulio morto nel suo letto stroncato da un malore fatale siamo ancora a Pesero il cappuccino Pesarese Pierani 65 anni era missionario in Benin dal 1988 leggiamo all'interno dell'articolo un malore del tutto imprevedibile perché padre Giulio non ha mai sofferto di problemi cardiaci e circolatori 4 in un giornale in due giornali locali circoscritti nella provincia di Pesero Urbino 4 malori 4 la domanda che vi faccio e alla quale potete rispondermi al 338 49 68 250 è sempre la stessa vi siete chiesti come mai tutti questi malori negli ultimi tempi tutti questi malori questi infarti eccetera eccetera attendo risposte andiamo sulla pagina di Fano adesso allevamento di cani lupo esplode la protesta i residenti di una via esasperata dai atrati con le attuali leggi non c'è soluzione siamo a noi a dover sopportare questo disturbo continuo ci sono questi cani lupi questi cani lupo che fanno i cani lupo e quindi però impediscono alla gente di dormire di camminare e si fa fatica anche a consegnare la posta o parcheggiare l'auto in via Brigata Messina perché appunto c'è c'è ci sono questi questi lupi questo allevamento di cani lupo poi sotto invece sempre in via Brigata Messina in strada auto come proiettili perché vanno forte via Brigata Messina lancia l'SOS poi invece sempre da Fano dalla variante alla voragine caos in maggioranza la capogruppo del partito democratico se non si farà perché ostacolata rimango convinta che il PD dovrebbe levare le tende polemica a pioggia dunque se la variante Gimarran non si farà perché ostacolata da una parte della maggioranza rimango convinta che il PD dovrebbe levare le tende la capogruppo Agnese Giacomoni del partito democratico Agnese Giacomoni ribadisce in domani dell'assemblea pubblica sulla variante di Gimarran quanto già dichiarato nel mese di maggio andiamo avanti adesso velocemente da Fano per quanto riguarda il Corriere Adriatico per Romoli un'ennesima proroga in qualità di avvocato del comune il concorso può attendere spariti dal radar il giornalista pubblico e il social media manager sotto invece la variante di Gimarran l'amaro risultato dell'arroganza i tre consiglieri 5 stelle dopo l'assemblea di lunedì tornano sulla complanare Salvini approda il mercato con lui tre candidati assieme al leader della Lega ci saranno Mirko Carloni il commissario Riccardo Augusto Marchetti il coordinatore provinciale Mauro Lucertini invece sotto nuovo macchinario nella centrale ridotto l'inquinamento acustico dunque buone notizie per gli abitanti di Carrara di Fano già all'interno della centrale elettrica questo nuovo macchinario di ultima generazione che entrerà in esercizio entro la fine del mese di settembre poi a Senigallia invece Sant'Agostino ha perso appilla dopo Fano c'è Sant'Agostino poi arriva Pesero queste sono tre fiere più o meno che si girano perlomeno qui nel nord delle Marche Sant'Agostino ha perso appilla cioè non piace più non ha più interesse non suscita più interesse perlomeno da parte di chi deve vendere perché in fiera vedete ci sono molti spazi rimasti vuoti il sindaco dice va ripensata i banchi degli ambulanti non devono essere sparpagliati nel centro io mi fermo qui grazie per aver seguito occhio ai giornali l'informazione su Fano TV torna questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale grazie come sempre per averci seguito vi auguro una piacevolissima giornata arrivederci